Polpettine così buone dovete assolutamente provarli! Montiamo le zucchine all'estremità, poi prendiamo la grattugia fuori l'arbi e grattugiamo. Condiamo con un pizzico di sale e teniamo da parte. Schiacciamo con lo schiacciapatate tre patate lesse. Di seguito condiamo con zucchine bestrizzate, sale, un uovo, il parmigiano grattugiato e il pan grattato. Mescoliamo bene il tutto e poi facciamo le nostre polpettine. Inseriamo un pezzettino di formaggio, rotoliamo nel pan grattato e poi le cuociamo in padella. Ma se preferite potete cuocerle anche in forno.